Possono le tecnologie digitali migliorare realmente la qualità della vita delle persone? Possono creare posti di lavoro? Possono migliorare l'efficienza dei servizi di pubblica utilità? A queste domande e a molte altre ancora intende rispondere il Digital Experience Festival 2012. L'evento, giunto alla sua terza edizione, aprò da quest'anno a Torino. Il Digital Experience Festival è incentrato sul tema dell'influenza delle tecnologie digitali sulla vita quotidiana delle persone. Tutto questo attraverso incontri, dibattiti, seminari, laboratori, esposizioni e convegni. Ci sarà un progetto molto interessante che riguarda proprio il mondo del lavoro e quello che è le nuove competenze, le nuove professioni del digitale. Questo evento si chiama John Matching e ha proprio l'obiettivo di fare incrocio, domanda offerta tra quello che sono chi cerca delle competenze e chi queste competenze è in grado di offrirle o chi vuole essere orientato a quelle che sono le professioni del futuro. È un momento importante in cui si fa sviluppo del mercato del lavoro, questo è un esempio. Poi si porterà un po' quello che è lo stato dell'arte, dell'evoluzione di alcuni settori, come può essere il settore della pubblica amministrazione piuttosto che il settore dell'editoria che in questi anni, grazie ovviamente all'avvento di nuovi device o altro, si è rivoluzionato ancora. Il Digital Experience Festival si presenta dunque come un osservatorio privilegiato su scala nazionale dedicato a tutto ciò che riguarda il rapporto tra uomo e digitale. Abbiamo accettato con grandissimo entusiasmo di essere il main sponsor di questa iniziativa principalmente perché condividiamo che lo sviluppo di cultura e di tecnologia digitale sia un driver importante per la crescita socio-economica di questo paese. Avete visto che in tutte le classifiche di e-intensity, di qual è il peso dell'Internet Economy sul PIL l'Italia è ancora molto indietro, quindi queste iniziative, siamo anche contenti in particolare che sia su Torino svilupperanno questa cultura per cercare di colmare il digital divide che ancora l'Italia ha e quindi SEAT che in un processo di trasformazione molto importante per portarci proprio sul mondo digitale sicuramente può dare un contributo importante a questa iniziativa.